Gesù lo trovi nella ferialità, nella quotidianità, quando i pescatori stanno sistemando le reti, nella fatica del lavoro, lo incontri quando cammina per i villaggi, si ferma in piazza a conversare, nella sinagoga, nel tempio a pregare, lo vedi quando dà speranza a un cieco e gli avvista. Gesù celebra anche in casa, è presente nel luogo dei sentimenti, degli affetti, nello spazio delle relazioni, spazio di vita e anche di morte. Guarisce, rialza e prende per mano la suocera di Pietro e si mette al servizio, perché non ci può essere diaconia se non si è guariti. Quanta dimensione umana nella vita di Gesù. Noi sappiamo poco di lui, i Vangeli ci raccontano alcuni dettagli, raccontano un Dio che non prende le distanze, che non è indifferente, è incarnato, si rivela anche nelle deformità dell'esistenza contro l'indifferenza. È la vera malapianta della nostra epoca. Scriveva Roberta Daffun. Io ti auguro di non incontrare l'indifferenza, male peggiore nel corso di qualunque esistenza. Ti auguro commozione, tremore di cuore, scossa e che le aspirazioni della tua età vedano i figli ridenti nascere. Eretto corpo, rivolgerai lo sguardo in avanti e che i libri, i libri più adulati diventino scritture rare. Dalla loro carta, il profumo della tua compassione, ti auguro di aspirarla e respirarla, in virtù del cuore e ancora di più della ragione. Dove c'è Gesù c'è quotidianità. Affermava il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, Dio è vicino a ciò che è piccolo, ama ciò che è spezzato. Quando gli uomini dicono perduto, egli dice trovato. Quando dicono condannato, egli dice salvato. Quando dicono abbietto, Dio esclama beato. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La socera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si missero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero tutti ti cercano. Egli disse loro andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoche e scacciando i demoni. La vita di Gesù non è la sagrestia. È tra la strada e la piazza, la casa e la strada. Cammina con un piccolo gruppo di discepoli. La vita di Gesù è fatta di ferialità, di prossimità, di cura, di sguardi empatici. Egli ama le porte spalancate, i tetti scoperchiati, le tasche vuote. Condivide il dolore e la gioia, mangia con i pubblicani e riscatta, risuscita i peccatori. consola la donna che piange, abbraccia in una grande eucaristia il verde dei prati e i frutti dei boschi. C'è uno spazio intimo, misterioso, nella sua missione terrena. Quando è buio, esce a pregare. Nel silenzio ha necessariamente bisogno dell'incontro con il padre, papà mio, papà mio amato. La Chiesa spesso parla di sinodi, pubblica documenti, programma progetti pastorali. Ma di missione, l'essenziale, qual è? Guardiamo al metodo gesuano. È l'incontro con gli altri, quando le visita a casa. È la comunione ecclesiale per evitare l'individualismo. È il Vangelo come unico messaggio da annunciare, la preghiera per restare unite al Signore. In tutto questo trapella che non solo Dio è innamorato di normalità, scrive Hermes Ronchi, ma anche c'è un querere deum che diventa querere jesum, dove anche egli cerca la nostra vita imperfetta e fragile per diventarvi sale e lievito. Egli tende la mano che solleva, egli dona la parola che guarisce, egli dona lo sguardo che perdona. E con la sua venuta tutto acquista un senso, anche la malattia, egli la incontra, la avvicina, la toglie dall'isolamento. È il veniente, è venuto il regno. I segni salvifici della sua venuta sono la vittoria. Tutti la cercano, tutti ti cercano, ma non si lascia prendere, va altrove, perché c'è bisogno di uscire per annunciare il regno e andare di villaggio in villaggio. Siamo viandanti che camminano nella notte, siamo sentinelli che scrutano l'aurora, siamo veglianti e vigilanti in attesa dello sposo, siamo la lanterna della vita della fede e ogni giorno è un passo verso il cielo. Siamo l'impossibile che diventa possibile, perché l'odio possa trasformarsi in amore. Il buio in luce, la guerra in pace, la tristezza in gioia, il pianto in sorriso. Siamo tutte le cose, siamo i colori dell'arcobaleno. Buona domenica.